Non mi piace fare la spocchiosa, a meno che non mi si chieda espressamente, non correggo mai la pronuncia inglese delle persone, però è inevitabile che essendo laureati in lingue, avendo vissuto 23 anni in Australia, avendo lavorato soprattutto in Australia, sempre in professioni che richiedevano l'uso della lingua inglese, non posso fare a meno di notare alcune anomalie che diventano un problema quando devo tradurre qualcosa, soprattutto quando devo tradurre un concetto che in italiano viene descritto usando a sproposito un termine inglese. Ora non parlo di quei termini che noi ci siamo inventati e che nella lingua inglese non vengono usati, tipo pullover, che noi usiamo per dire maglione ma che in inglese significa tirare su, oppure il modo in cui noi usiamo la parola mister, che in inglese significa semplicemente signore, che noi invece usiamo come l'allenatore del calcio, o lo smoking, che in inglese significa semplicemente l'atto di fumare. No, parlo di espressioni che noi abbiamo in qualche modo, che ci siamo inventati di sana pianta e che in inglese proprio non vengono usate per niente. Pensate un po' a come si usa il body. Body in inglese significa corpo, per noi invece è la tutina che si usa per fare attività di ginnastica, oppure quando noi ci riferiamo a uno spot. Se io dico spot, tutti pensano lo spot pubblicitario, in inglese spot vuol dire macchia. O addirittura il water, il gabinetto. Water, immagino che sia la parola inglese che significa acqua, che viene pronunciata water. Però, vabbè, ripeto, questi sono casi che sono entrati ormai a far parte della lingua italiana, nel bene e nel male, e la lingua è un essere vivente, quindi si evolve. No, oggi mi sono confrontata con la traduzione di child care, child care particolare. Sono quei posti dove chi va in piscina a fare ginnastica, eccetera, lascia il bambino o la bambina per il tempo necessario, qualcuno glielo guarda. Ecco, in italiano questa cosa qua si chiama baby parking, che è il parcheggio dei bambini. Io come faccio a tradurre child care con baby parking? Io non ce la faccio, io lo so che in Italia si usa, ma è una cosa orribile, è un parcheggio infantile, i bambini non sono dei pacchi che si parcheggiano, anche perché chi offre questo servizio mette a disposizione personale qualificato, non va bene, bisogna che ci inventiamo qualcos'altro. Non mi piace il baby parking, io non lo traduco baby parking, mi rifiuto.